Avvicinalo! Basta Giorgio, blocca! Giorgio, te bloccano! Te bloccano, Giorgio! È ormai pronta a brillare per il periodo delle feste. La stella dell'albero di Natale, più grande del mondo di Gubbio, è stata installata. Una quarantina di volontari del Comitato Alberaioli nel giro di tre ore hanno posizionato le 250 luci a LED in posizione che dal 7 dicembre daranno vita, insieme alle altre 700, alla sagoma luminosa più famosa del Natale. Quest'anno la cometa è dedicata alle popolazioni di Umbria e Marche colpite dall'alluvione del 15 settembre. Tutti gli altri punti luminosi sono stati adottati nella consueta iniziativa Adotta una luce, nata per cercare risorse economiche utili a coprire parzialmente le spese per l'energia elettrica necessarie al funzionamento dell'albero di Natale. Dediche ai cari scomparsi, ai familiari, ai compagni di vita, ai nascituri e anche agli stessi alberaioli e al meritorio lavoro che svolgono nelle 1300 ore di allestimento totali, muovendo 7500 metri di cavi, collegandoli a 1350 prese per quasi mille luci. Questi alcuni dei numeri che traducono l'impegno del Comitato nel realizzare ogni anno dal 1981 la più suggestiva e apprezzata attrattiva del Natale per la città di Gubbio. Non è ancora noto il nome di chi accenderà la sagoma luminosa, ma come ogni anno ci si aspetta una figura che sia in grado di conciliare i valori di pace, speranza e solidarietà che l'albero di Natale esprime fin dalla sua nascita. È una domenica importante, bella e aggregativa perché succede sempre così quando avviene il montaggio della stella. Questo significa che anche che l'albero è quasi, sono quasi conclusi i lavori per la realizzazione di questo spettacolare albero di Gubbio. Anche quest'anno, come vedete, stiamo terminando i lavori. Stamattina installiamo la stella e poi domenica prossima sicuramente porteremo a termine i lavori anche per il Natale 2022.